Qui vi presentiamo le 5 miglior tiralatte allattamento. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. BabiTec Tira Latte Elettrico. Sia con la batteria non fornita che con la procedura corrente, la pompa a busto elettrico BabiTec consente alle madri di selezionare tra 3 diversi livelli di aspirazione che imitano i movimenti del bambino. È dotato di un microprocessore che inoltre tenendo presente l'opzione preferita. Adorabile anche il design colorato. Passando al numero 4. Medela Mini Electric Tira Latte Elettrico Singolo. Il fiore all'occhiello di questa pompa a busto elettrico a marchio Medela e il suo ingombro estremamente ridotto. Come suggerisce il nome, in realtà, la pompa del seno è piccola 27,4 x 24,7 x 7,9 cm ed è ideale se stai facendo un viaggio e hai bisogno di portare il gadget con te o richiedere di mantenere piccole quantità di latte. Funziona sia con le batterie che con l'alimentazione. Il prodotto di cui è fatto che entra in contatto diretto con il latte è senza bisfenolo ABPA. Puoi scegliere la velocità e l'intensità del pool per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Mebbi Natural Plus Tira Latte Elettrico Coppa Massaggiante. Il dispositivo assicura una trazione con un risultato aspirapolvere irregolabile e una comodità superiore quando si pompa il latte grazie alla tazza per la terapia del massaggio. In realtà, ci sono due tazze nel piano un altro rigido per lo standard attira l'altro sfregamento per stare lontano dal disagio e rendere la procedura meno angosciante. Ci sono 5 livelli di aspirazione tra cui scegliere. Almostat è top of our list at number 2. Philips Avent SCF332-01 Philips ha effettivamente creato la pompa del busto in versione Avent per essere a proprio agio per le mamme che hanno deciso di usarla. Non sarà certamente necessario assumere spiacevoli posizionamenti in avanti per pompare il latte considerando che la conformazione tutto naturale consentirà agli utenti di sedersi naturalmente. La tazza ha una conformazione petalo che stima il seno e che deve anche consentire una stimolazione molto più naturale e quindi una maggiore produzione di latte. Ci sono 3 tecniche di estrazione tra cui scegliere bassa, utensile e anche alta. L'ultimo garantisce una completa estrazione del latte in soli 10 minuti ma il tutto è molto soggettivo. Il latte viene accumulato in un contenitore che può essere somministrato prontamente al bambino. E infine il numero 1 della nostra lista. Medela, tira latte elettrico. La pompa a busto elettrico modello Medela Swing è un dispositivo semiprofessionale, sviluppato per le mamme a tempo pieno che, tuttavia, hanno anche una vita esperta di cui prendersi cura. Questo perché non è solo in grado di essere alimentato da energia elettrica, ma ha lo stesso modo da batterie 4 batterie A. Medela Swing ti consente di pompare il latte da entrambi i busti contemporaneamente. Con la cosiddetta tecnica dell'espressione a due fasi, la pompa del busto simula al meglio i tempi del bambino movimenti brevi inizialmente, dopo quelli più per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.